Oggi, sabato 24 settembre, celebriamo la Festa dei lettori. La Festa dei lettori è un'iniziativa che è nata dalla terza diversi anni fa e che è andata sempre più progredendosi. Ogni anno la Biblioteca di Nichelino propone delle attività e delle iniziative rivolte ai lettori e ai nichelinesi. Sarà un modo anche per stare tutti insieme e festeggiare adeguatamente questo momento di festa della lettura. La nostra Biblioteca Civica ha sempre puntato molto sulla diversificazione dell'offerta culturale. Abbiamo offerto non soltanto il nostro vasto assortimento librario, ma anche i periodici, anche la Mediateca, con titoli di film di assoluto interesse. Oggi, attraverso Pod Library, noi andiamo a ripescare, a recuperare tutte quelle trasmissioni radiofoniche di interesse culturale che trattano come argomento i libri e il mondo del libro e lo mettiamo a disposizione dei nostri cittadini. Abbiamo deciso di istituire questa nuova sezione presso la Biblioteca di Nichelino, dedicando proprio questo spazio ai Pod Library. La Biblioteca di Nichelino è una tra le prime, se non la prima, ad aver istituito questa sezione e possono essere presi in prestito con le stesse modalità dei libri, per cui tenuti in prestito 30 giorni. Grazie a tutti.